Benvenuti nell'analisi dell'investitore intelligente, pietra migliare sicuramente di chi si approccia ai mercati finanziari. Quindi un libro scritto parecchie anni fa che tuttavia è molto attuale. In questo libro vedremo chi è l'investitore intelligente e come si comporta. Piccola nota, questo libro è stato scritto da Benjamin Graham parecchie anni fa e secondo Warren Buffett Benjamin Graham è stato il più grande o meglio l'inventore del value investing, tecnica di investimento che ha fatto fare a Buffett parecchi parecchi miliardi. Ma entriamo subito nel dettaglio. Come prima slide vediamo delle pietre miliari, delle frasi che sono state riportate pari pari dal libro e che ci faranno capire come Benjamin Graham descrive l'investitore intelligente. Ma direi senza ulteriore perdita di tempo di iniziare. Quindi come prima cosa vedremo che cos'è l'investimento e che cos'è la speculazione. Beh, intanzitutto sono due approcci completamente diversi. Perché? Perché l'investimento è un processo studiato con basi più o meno robuste e con orizzonti medio-lunghi. Con la speculazione invece si cerca di fare profitto sfruttando la voleterità di un asset. Quindi l'investimento è un processo che necessita di molto tempo. Io studio i bilanci, leggo le note integrative, guardo i fondamentali dell'azienda, guardo al management, guardo a quali potrebbero essere le opportunità di crescita, quali potrebbero essere i trend del futuro e dopo investo. Quindi è un processo molto lungo e nel momento che è un processo molto lungo chiede anche una fase di exit molto lunga. Quindi io entro oggi per uscire fra diversi anni. Quindi questo è un investimento in senso stretto. Poi chiaramente ci sono titoli che compri oggi che secondo te avranno una crescita fra 2, 3, 4, 10 anni, ma che in qualche modo il mercato sconta e anticipa la crescita ed esci prima. Ma quelli sono dei casi. Al contrario, la speculazione è un processo molto molto veloce. Io guardo un asset, guardo un po' quali potrebbero essere le evoluzioni sul breve, magari un giorno, due giorni, una settimana, ok? E cerco di sfruttare la volatilità. Quindi lavoro sicuramente con la volatilità. E chiaramente quali sono gli asset con cui si può fare, con cui si può fare speculazione, chiaramente gli asset volatili, come non so Tesla, Bitcoin, non di certo con delle azioni o comunque degli strumenti poco volatili. Quindi l'interesse primario dello speculatore è sfruttare le fluttuazioni di mercato. L'interesse primario dell'investitore è acquistare e conservare titoli interessanti a prezzi interessanti. Quindi la domanda sorge spontanea, ma è meglio investimento o speculazione? Beh, dipende. Se sei più improntato all'investimento, ti conviene investire. Se sei più improntato alla speculazione, conviene speculare. È chiaro che non è che con gli investimenti si fanno i soldi, più soldi rispetto alla speculazione. No, ci sono certi investitori che perdono soldi e certi speculatori che guadagnano soldi. Quindi sta tutto, come al solito, nella bravura e nell'intensità con cui ci si approccia a uno di questi due metodi. Chiaramente non si può dire che cosa è meglio. Dipende sempre dalle tue caratteristiche, dal tuo risonante temporale. Io consiglio, ed è quello che faccio io, di separare i conti. Uno dedicato all'investimento e assorbirà la porzione più alta del proprio net worth e dedicare alla speculazione una piccola parte con un altro conto, in modo tale che le due tecniche, se vogliamo chiamare le tecniche, siano ben separate. Quindi, magari con un 90% si investe e con un 10% si specula. C'è da dire che ci sono ottime opportunità di investimento con la speculazione, proprio perché è un'attività molto veloce. Compro oggi, magari vendo anche prima della chiusura. Secondo concetto importantissimo è il concetto di inflazione, che potete andare a vedere nel mio corso Monete e Banche Centrali, dove viene spiegato molto bene. In sostanza, il caso dell'inflazione? L'inflazione è l'aumento dei prezzi generali, quindi non è che aumentano tutti i prezzi, ma alcuni prezzi aumentano. Quindi un paniere di beni che sono ritornati essenziali aumenta. Quindi, praticamente, i soldi perdono valore, valgono sempre meno. Ma quindi come l'investitore intelligente combatte l'inflazione? Beh, ci sono degli strumenti che fanno al caso proprio, ed è sicuramente l'oro che in periodo di forte inflazione aumenta le proprie quotazioni. Ci sono gli immobili, quindi si può entrare direttamente a... scusate, con l'oro si può entrare o direttamente comprando lingotti, oppure attraverso un'ETC che va a comprare i lingotti, oppure con dei contatti future. I contatti future hanno un orizzonte molto breve, perché a causa del rollover è molto difficile avere un'esposizione più lunga. Ma, evidentemente, questo sarà oggetto di altri corsi. Secondo strumento che potremmo utilizzare sono gli immobili. Anche qui, gli immobili potremmo entrare con immobili diretti, quindi acquistano a casa, oppure con dei rate, che sono dei fondi, al cui interno troviamo azioni che investono proprio in immobili. Quindi gli immobili, in periodi di inflazione, aumentano di prezzo, come è normale che sia. Le azioni, beh, anche le azioni aumentano di prezzo, perché siccome le azioni, dietro le azioni ci sono le società, evidentemente con prezzi più alti fanno rendimenti più alti. Come quarto strumento possiamo avere i bond, che non sono assolutamente consigliati, perché i bond hanno un rendimento nominale, quello che vediamo scritto nel KID, nel prospetto, chiamatelo come volete, è il rendimento nominale, e chiaramente quello che ci interessa è il rendimento reale, e il rendimento reale è il rendimento nominale meno inflazione. Più alta l'inflazione, più il rendimento reale è basso. Quindi sicuramente in periodi di forte inflazione, i bond non sono una buona alternativa. Abbiamo un altro strumento che sono le commodity, che sono praticamente le materie prime, e c'è questa storica correlazione con l'inflazione, quindi più aumentano i prezzi, più le materie prime naturalmente aumentano le proprie quotazioni. Ma questi sono alcuni degli strumenti, ma ci potrebbero essere altri strumenti, ma diciamo che questi sono i principali. L'inflazione è uno dei peggiori nemici per l'investitore? Sì, perché è un nemico che non si vede. Cioè tu non vedi l'inflazione, la vedi solo col rendimento reale, ma col rendimento nominale tu non la vedi l'inflazione. Quindi ti sembra di guadagnare tanto, ma in realtà in periodi di forte inflazione il guadagno è sicuramente minore. Quindi l'inflazione è rho della ricchezza, sì, perché abbiamo detto che i prezzi aumentano, quindi il potere d'acquisto diminuisce, ed è importante misurare il successo dei propri investimenti, non solo sulla base di quanto si incassa, quindi quello che noi chiameremmo rendimento nominale, ma di quanto rimane il netto dell'inflazione, quindi quello che noi chiameremmo rendimento reale. Quindi è necessario guardare rendimenti reali per riflettere sulle proprie performance. Infine, l'inflazione favorisce debitori, mentre la deflazione favorisce i creditori. Sì, perché chi prende a prestito si indebita, dovrà restituire una quantità non nominale, perché se io prendo a prestito 100.000, sempre 100.000 devo rimborsare, ma una quantità reale è minore, perché i prezzi aumentando, il potere diminuisce. Quindi io saldo sì 100.000 euro, ma quei 100.000 euro varranno sempre meno, proprio per l'effetto inflattivo che ha sui soldi. Al contrario, la deflazione favorisce i creditori, perché sì, se io do a prestito 100.000 nominale, ma in periodi deflattivi, in periodi quindi dove c'è una diminuzione dei prezzi, io riceverò sempre 100.000 euro nominali, ma che varranno di più proprio perché c'è una deflazione in atto. Quindi è importantissima l'inflazione. Se non ce l'avete ben a mente, ricordatevola. L'investitore e le performance. Quindi le performance alle quali bisogna puntare dovrebbero dipendere dalla quantità di sforzo che l'investitore è capace di approfondire per raggiungere i suoi obiettivi. Quindi questo è essenziale. Cioè nel senso, io quanto voglio? Io voglio un 2% all'anno? Mi accontento un 2% all'anno? Quello che devo fare è quasi niente. posso metterli in dei bond governativi e non so, magari un BTP a 10 anni e magari riesco a racimolare l'1% e mezzo all'anno? Mi viva bene così. Ma se io voglio performance più alta, allora o mi affido a dei gestori, quindi compro fondi di investimento, che evidentemente l'industria del risparmio gestito è un'industria commerciale come tutte le altre industrie, nel senso che tu vai a pagare le commissioni e siccome queste banche che ti propondono i fondi hanno degli accordi commerciali con chi crea questi fondi, chiaramente loro ti piazzeranno quelli che hanno commissioni più elevate. Ma non è detto che il fondo che ha commissioni più elevate sia quello che performerà meglio. Non c'è assoluta correlazione tra quanto pago in commissioni e le performance che avrò a fine anno. Allora, cosa devi fare? Devi investire da solo, quindi devi studiare, devi aggiornarti, quindi sempre tenerti informato. È un lavoro molto, che richiede uno sforzo molto elevato, non solo per il tempo che porta via, ma proprio per le competenze che bisogna avere. Quindi io non posso permettermi di volere un rendimento del 20% all'anno se non sono disposto a studiare. Mi accontento o dei BTP oppure di un fondo che acquisto che magari mi fa fare un rendimento negativo. Quindi attenzione a questo. La necessità di essere più o meno difensivi dipende non tanto dalla propria tolleranza al rischio, quanto dalla propria disponibilità a dedicare tempo ed energia al proprio portafoglio. Quindi qua è quello che dicevamo prima. Cioè, se voglio tanto, devo essere disposto a far tanto. O mi offido a un gestore, ma abbiamo visto che il gestore non è sempre la scelta giusta, oppure incomincio a smazzarmi una roba, e comincio a studiare e tenermi aggiornato. Un investitore intrapendente è semplicemente un investitore disposto a dedicare tempo e impegno all'analisi finanziaria sul suo portafoglio. In qualche modo questo è coerente con quello che abbiamo detto prima. E Graham elogia fondi indicizzati definendoli la scelta migliore per i singoli investitori. E lo stesso sostiene Warren Buffett. Quindi tenete presente che quando è stato scritto questo libro non esistevano ancora gli ETF, esistevano solo i fondi indicizzati che sono i precursori degli ETF. I fondi indicizzati sono praticamente dei fondi che replicano l'andamento di un benchmark. Quindi la differenza sostanziale tra l'ETF e il fondo indicizzato è che il fondo indicizzato non è negoziato su un exchange. Quindi ha un NAV come tutti gli altri fondi e non è trattato come un'azione perché gli ETF sono di fatto un'azione, sono quotati in tempo reale e possono essere comprati e venduti direttamente su un exchange. Quindi sicuramente se ci fossero stati gli ETF già a tempo di Graham avrebbe detto sicuramente di acquistarli. Quindi gli ETF che cosa fa un ETF? Un ETF replica l'andamento di un benchmark quindi di fatto toglie via un gestore attivo, quindi toglie via una parte robusta di commissione, quindi hai un prodotto molto efficiente perché replica un andamento, replica un benchmark, ma con costi molto molto minori. Quindi di fatto posso prendere posizione passivamente sul Standard Poor's 500 senza acquistare tutti i 500 titoli che lo compone. Questo è molto molto utile per chi non vuole fare stock picking perché vedremo che fare stock picking è molto difficile. Passiamo ora all'investitore e le fluttuazioni di mercato. Quindi metafora che sicuramente leggerete e sarà un punto cruciale del libro è quella del Mr. Market. Quindi che cosa fa il Mr. Market? Il Mr. Market raffigura quella che è l'euforia del mercato. Nel senso il Mr. Market a volte si sveglia con che ha delle visioni assolutamente rialziste e quindi ti propone prezzi molto alti e dei giorni in cui si sveglia con delle visioni molto ribassiste quindi con prezzi molto bassi. Quindi di conseguenza tira fuori delle quotazioni che sono molto instabili. Quindi voi, quello che dice Gravon, non dovete guardare le quotazioni perché il mercato sballa a volte, anzi spesso e volentieri sballa. Dovete affidarvi a quelle che sono le vostre valutazioni prima dell'investimento. Quindi con la metafora di Mr. Market Grav cerca di spiegare che il mercato azionale è volatile e che le fluttuazioni dei prezzi sono dovute all'emozione degli investitori. Perché sì, ricordatevi sempre che il mercato, quando si dice il mercato, cioè il mercato fisicamente non esiste, il mercato chi è? E' la somma di tutte le persone o istituzioni che negoziano. Ok? Quindi il mercato è l'insieme delle persone e istituzioni molto spesso e che molto spesso sono irrazionali. Chi acquista sono persone. Ok? Sono istituzioni. Sì, è vero, c'è il trading algoritmico, però sempre c'è dietro delle persone. Quindi è fatto di persone e al momento che le persone sono irrazionali molto spesso il mercato è irrazionale. Il compito di Mr. Market è fornirvi dei prezzi. Il vostro compito invece è decidere se vi conviene agire di conseguenza. Non è necessario monitorare costretamente le quotazioni di mercato. Sì, perché se noi siamo un investitore e noi qua diciamo che siamo un investitore e non siamo uno speculatore, se siamo un investitore, quindi ragioniamo con orizzonti molto lunghi, che a noi un'azione ci faccia almeno 10% o al più 10% in un giorno non ci cambia assolutamente nulla. Non è che bisogna guardare ogni giorno ogni mezz'ora le quotazioni, le guardiamo magari una volta alla settimana. Quindi sicuramente questo è l'investitore, colui che se ne sbatte altamente delle fluttuazioni nel breve periodo. Perché se ne sbatte? Perché dietro c'è un processo di investimento e un'analisi che secondo lui gli fa pensare che nel lungo quell'investimento sarà performante. Più a lungo e più in basso calano i titoli, con più costanza voi continuate a comprare man mano che calano e più soldi guadagnerete alla fine. Perché restiate fedeli a questa strategia fino in fondo? Sì, perché quando il mercato ritraccia e il mercato ritraccia l'abbiamo visto a ottobre, l'abbiamo visto adesso, ogni tanto il mercato prende pausa e dice no aspettate queste quotazioni sono molto alte scarico la gente scarica prende profitto i mercati scendono ricordatevi sempre legge domanda offerta se la domanda è più alta dell'offerta il prezzo sale se l'offerta è più alta della domanda il prezzo scende ci sono più venditori che compratori il prezzo scende si scarica un po' perde magari un 10-15% per poi ripartire chiaramente nel mezzo ci potrebbe essere una fase ancora di una fase ribassista oppure una fase di lateralità però il mercato storna a volte anzi è anche naturale che storni perché la crescita continua non esiste non esiste che un titolo cresce continuamente cresce ok però in mezzo ci sono degli storni quindi sicuramente attenzione a questa cosa 5 siamo arrivati alla diversificazione quindi la diversificazione è sicuramente un concetto importantissimo in materia di investimenti beh che cosa è la diversificazione significa non mettere tutte le uova in un solo paniere la prima regola è quindi di ripartire i rischi evitando di puntare tutti i propri risparmi su un singolo titolo perché se va male quel singolo titolo allora perdiamo tutti i soldi se invece io con quei soldi compro 10, 15, 20 società anche se una sola dovesse andare male o addirittura dovesse fallire il mio patrimonio il mio portafoglio non subisce delle gravi conseguenze però guardate una cosa cioè non è che bisogna fare per forza diversificazione perché? perché se uno ha trovato una buona opportunità di investimento e investi in quel titolo una percentuale minore dell'1% e se quel titolo dovesse fare una buona performance magari del 100% anche è chiaro che con quella percentuale investita il guadagno è risorio perché se si è investito meno dell'1% praticamente tutti gli altri titoli assorbono la performance di quel titolo quindi sicuramente diversificazione è importante ma non diversificate tanto per diversificare perché questa è una cavolata pazzesca quindi è indubbiamente meglio concentrarsi su un unico titolo che sappiamo si dimostrerà molto redditizio anziché diluire i risultati fino a una cifra mediocre al solo fine di diversificare beh ecco tutto il patrimonio di un solo titolo è un azzardo però una parte consistente del proprio portafoglio non so un 20% di portafoglio si può fare tranquillamente purché alla base c'è un processo di investimento robusto veniamo quindi all'analisi dei titoli per l'investitore dilettante quindi analizzare le aziende è un processo che richiede molto tempo e molta preparazione perché? perché io parto con un settore ok credo che questo settore performerà nel futuro ora devo capire quale aziende inserire in portafoglio allora o mi compro il settore con l'etf a me ammesso che esista un etf che replica l'andamento di quel settore ok mettiamo a caso che esista ma io voglio fare stock picking quindi io voglio prendere società per società e non tutto il settore beh individuato dal settore mi concentro sulle azioni magari individuo un'azione una società buona prendo questa società prendo i fondamentali di questa società che vuol dire prendere i bilanci il conto economico il rendiconto finanziario analizzarli nei diversi anni vedere se c'è un trend positivo per quanto riguarda il fatturato oppure per il price earning o altri indicatori guardare leggere attentamente le note integrative per vedere se ci sono delle cose che ci sono sfuggite nei bilanci e dopodiché decidere se investire o meno badate bene che questo è un processo molto lungo non è che lo si fa in un giorno ci vogliono giorni settimane mesi a seconda dell'azienda e poi non è detto che dopo avrete un giudizio positivo quindi è necessario se si vuole fare stock picking ok se vuoi prendere le azioni e non un etf entrare nel dettaglio dell'azienda in questione non solo ammesso che riusciamo a fare questo ammesso che abbiamo il tempo ammesso che abbiamo le capacità per farlo perché ci vogliono delle capacità certo non bisogna essere dei fisici però bisogna sapere l'analisi finanziaria alla fine di tutto è sempre una stima soggettiva perché perché io quando stimo quello che devo fare io tiro fuori un prezzo vedere se i prezzi sono in linea con le quotazioni oppure se la società è sottovalutata o sopravvalutata quello che tiro fuori alla fine è un prezzo e come faccio a stimare questo prezzo attraverso dei modelli di valutazione ma sono dei modelli soggettivi perché non sono dei modelli oggettivi cioè non è che io posso mettere in input solamente delle cifre prestabilite no io faccio un'analisi e dico secondo me il tasso di crescita è questo quindi l'output l'output che sputa fuori il modello è un output soggettivo quindi se io prendo 10 analisti ok sulla stessa azienda ci saranno 10 prezzi diversi perché ognuno ha le sue le sue visioni quindi quanto è realmente utile fare stock picking questa è una domanda che vi dovete fare quindi vale la pena affrontare questo sforzo per poi avere rendimenti inferiori al mercato perché sì perché se io compro un'azienda faccio stock picking e non è detto che performerà meglio del mercato ok magari compro ok lo standard output 500 mi fa il 20% in un anno questa azienda mi fa il 15% in un anno e dico caspita ho perso il 5% in più non perdevo tempo per analizzare tutti i documenti quindi non è necessario studiare i vari titoli ok per poi dopo selezionarli per la maggior parte delle persone non è nemmeno consigliabile perché non hanno le competenze perché bisogna studiare quindi singoli titoli quindi fare stock picking quando esistono le tf si risparmia tempo che si può dedicare ad altro quindi se io vado a investire in una società il tempo che porta via lo studio di questa società è molto elevato un etf questo tempo non c'è perché le tf non ci sono i fondamentali delle tf non ci sono le note integrative delle tf le tf le tf è un basket di titoli magari 100 200 anche 300 titoli non è che io posso andare ad analizzare tutti i titoli no guardo solamente quali potrebbero essere l'evoluzione di quel settore ed è una cosa molto ma molto veloce nella misura in cui tutto ciò è vero il lavoro dell'analista finanziaria quindi colui che attua dei modelli sulla base delle proprie previsioni per tirare fuori il prezzo del titolo quindi per capire se quel titolo oggi io tiro fuori il prezzo dal modello poi lo confronto con le quotazioni di quel titolo se vedo che è sottovalutato lo posso acquistare se vedo che è sottovalutato magari ci aspetto un po' di tempo se dovesse scendere le quotazioni lo compro quindi se tutto ciò è vero ammesso che i modelli funzionano per quanto intelligente e meticoloso il lavoro dell'analista finanziaria non può che risultare sostanzialmente inutile perché in assenza costrui cerca di prevedere l'imprevedibile sì perché la borsa le quotazioni sono imprevedibili ok lasciamo stare i casi singoli di chi cerca delle anomalie del mercato che si verificano più o meno regolarmente e fa soldi quelli li fanno le grandi banche quelli che hanno i mezzi i mezzi migliori i capitali i capitali più grandi gli analisti migliori e quello è un lavoro che noi non facciamo fare quindi quello che possiamo fare noi è studiare l'azienda e investire in etf ok stando sempre fedeli a questo libro noi stiamo analizzando l'investitore intelligente quindi perché perdere tempo quando ci sono gli etf quindi questa è una domanda che dovete farvi io posso io ho voglia di dedicare tutto questo tempo per investire quando esistono gli etf che mi portano via molto meno tempo quindi questa è una pietra migliare quindi leggiamola insieme se non siete disposti a fare neanche uno sforzo minimo di leggere il prospetto informativo e stilare confronti su fondamentali dello stesso stato di salute dell'azienda leggendo quindi 5 anni di relazione vuol dire che siete troppo difensivi per comprare singoli titoli tiratevi fuori dal settore dello stock picking e andate nel posto che vi aspetta cioè i fondi decizzati quelli che Gram definirebbe quindi etf attenzione all'equatazione quindi fare molta attenzione al valore e al prezzo quindi che cos'è il prezzo il prezzo è quello che vediamo quotato ok il valore è quello che il modello ci tira fuori ok quello che dopo una stima ci dice quale potrebbe essere il valore di un'azienda quindi chiaramente risulta lampante che se il valore è più basso del prezzo si tratta di un titolo sopravvalutato se invece il prezzo è minore del valore si tratta di un titolo sottovalutato quindi da comprare a differenza della maggior parte delle persone molti dei migliori investitori professionali si interessano a un'azienda quando il suo prezzo scende non di certo quando sale sì perché abbiamo detto prima dei ritracciamenti ci sono l'abbiamo visto a marzo 2020 è sceso quasi tutto anzi direi tutto aziende che non erano interessanti a quei prezzi a marzo del 2020 erano molto interessanti e di conseguenza erano da comprare quindi tutto si basa sul prezzo ci sono aziende bellissime a prezzi gonfiati che non vanno acquistate e aziende un po' meno belle ma a prezzi stracciati che vanno acquistati quello che comanda sui mercati è il prezzo il prezzo cos'è l'incontro fra la domanda e offerta chi fa la domanda chi fa l'offerta sono gli operatori gli operatori sono a volte irrazionali di conseguenza i mercati sono irrazionali l'unica cosa che comanda nel mercato se volete far soldi è il prezzo punto gli investitori e i professionali di successo prestano pochissima attenzione a come si comporta il mercato si l'abbiamo detto prima sempre stiamo parlando di di un'ipotesi di analizzare chi è l'investitore intelligente beh l'investitore intelligente sicuramente per quanto riguarda l'orizzonte temporale è quello che ragiona nel medio e lungo periodo e che se ne sbatte altrimenti delle fluttuazioni giornaliere del prezzo punto fondamentale sicuramente di questo libro è il concetto di margine di sicurezza quindi ripeto pari pari la frase del libro di fronte all'analoga necessità di distillare il segreto di un buon investimento in sole tre parole proponiamo il motto margine di sicurezza il margine di sicurezza può assorbire gli effetti di errori di calcolo o di una particolare situazione sfavorevole perché un margine di sicurezza esiste? perché quando io faccio delle analisi e abbiamo detto che mi tira fuori un valore ok io devo avere un margine di sicurezza perché? perché abbiamo detto che sono delle stime soggettive sono delle valutazioni completamente soggettive e nel caso in cui mi sbagliassi ok devo avere un certo margine per coprire le situazioni sfavorevoli quindi i veri acquisti si fanno durante le crisi o i ritracciamenti sicuramente nel momento in cui c'è un forte ribasso che si fanno gli acquisti migliori perché? perché le aziende iniziano ad essere sottovalutate perché i prezzi carano e hanno più opportunità di salire proprio perché i prezzi sono diminuiti quindi questo chiaramente è fondamentale capire badate bene ancora una volta quello che comanda è sempre il prezzo le quotazioni che vedete voi potete avere delle previsioni incredibilmente positive magari vedete un titolo a 100 dollari entro la fine dell'anno ma il mercato lo quota 35 beh voi di quelle valutazioni non potete farvele assolutamente niente perché quello che conta è il mercato il mercato dice che oggi quel titolo vale 35 non potete farci niente quindi questo evidentemente era l'ultima slide e quindi cerchiamo di vedere cosa portarci a casa di questo libro sicuramente è un libro che va letto è uno di quei libri che in materia di investimenti di finanza di mercati finanziari va letto è un mercato che è un libro che nella prima parte è molto interessante nella seconda si perde un po' a mio avviso perché ci sono delle analisi di aziende molto vecchie poi soprattutto la parte in cui si parla dei bond ora quegli anni i bond avevano rendimenti molto alti nonostante ci fosse inflazione più alta però comunque erano dei rendimenti reali sicuramente più alti di questi e si poteva fare i soldi anche investendo in bond cosa che oggi è impossibile oggi per fare soldi in bond o ti esponi a dei bond corporate molto rischiosi che hanno un rischio di default abbastanza evidente altrimenti quei bond è impossibile tirare fuori il rendimento secondo me questo è un libro da leggere e il secondo me il messaggio vero è questo il messaggio vero è se voi vi approcciate ai mercati finanziari se volete investire pensate a cosa volete fare pensate se attuare una strategia di stock picking quindi vado ad analizzare le aziende in dettaglio per poi andare a comprare quelle che mi interessano quindi io formo il mio portafoglio con azioni oppure se io non ho le capacità oppure il tempo per farlo vado con etf quindi replico l'andamento di un settore secondo me il settore ad esempio degli esports avrà delle performance impressionanti nei prossimi anni non vado a comprarmi le azioni di queste società ma vado a comprarmi un etf su questo settore ok quindi taglio completamente l'analisi finanziaria e nulla con questo finisce il video e vi auguro una buona lettura grazie